Sono 137 nuovi casi di covid quest'oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 4932 tamponi molecolari e 2826 test antigenici. Il più giovane tre contagiati a quattro mesi, il più anziano 87 anni. La provincia con il maggior incremento di casi è quella di Chieti, ne sono 56. Seguono il Teramano e l'Aquilano con rispettivamente 43 e 31 casi, mentre si conferma il trend favorevole del Pescarese, dove i casi sono 7. 9 i decessi registrati oggi, di cui 4 avvenuti nei giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle ASL. Considerando anche i 354 guariti, attualmente in Abruzzo sono 9.010 i positivi accertati, 226 in meno rispetto a ieri. E continua a scendere anche il numero dei pazienti ospedalizzati. In area medica vi sono 448 ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri. E 43 sono quelli in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, secondo gli ultimi dati, in Italia il 19% degli ultraottantenni non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino e l'Abruzzo in linea con la media nazionale. Sotto la media invece per quanto riguarda la somministrazione alla fascia d'età 70-79.